bonjour e benvenuti a calcio espresso il podcast nato in francese per gli amanti del calcio italiano e che di tanto in tanto si serve della lingua di dante per creare approfondimenti sul calcio francese in italia come ogni settimana al mio fianco da milano il mio collega cedric canale buongiorno cedric buongiorno valentina buongiorno a tutti è un numero un po speciale l'hai detto anche ritratto dall'attualità delle ultime settimane ma che vuole superarla o meglio andare al fondo sul profilo di quello che ha fatto colare chilometri d'incrostro della stampa italiana nelle ultime settimane christophe galtier un tecnico di cui non abbiamo parlato cedric perché anche noi ultimamente è stato protagonista dei nostri podcast esatto il tecnico dell'il che è a volte così nelle rumore che sia da roma e e oggi dal napoli esatto esatto diciamo che alla roma era stato accostato qualche tempo fa e lui aveva detto appunto prima di andare all'il che aveva rifiutato l'offerta della roma che insomma è sembrato particolare e adesso era stato accostato nelle ultime settimane al napoli oltre a me a cedric ad accompagnarci in questo nuovo episodio lo specialista sis michele tossani già protagonista di alcuni nostri podcast in francese eh dedicati al calcio italiano ciao Michele benvenuto ciao Valentina ciao cedric un saluto a tutti e eccezionalmente questa settimana abbiamo anche un futuro allenatore perché eh ce l'ho in famiglia diciamolo eh Fabrizio Clemente che è con noi ci darà anche lui un diciamo un piccolo assaggio dal suo punto di vista ciao Fabrizio ciao buonasera a tutti quindi beh siamo quattro e siamo pronti per andare alla scoperta di Christophe Galtier eh Michele hai scritto un pezzo questa settimana sull'allenatore di Lille sul tuo sito la via Diorico con il titolo come attacca il Lille di Galci allora eh come presentare il tecnico e la sua tattica ma è un tecnico come avete detto voi del quale si parla molto in questo periodo sono usciti come hai detto tu cedric tanti articoli tanti accostamenti all'Italia è un tecnico moderno forse meglio dire contemporaneo fa un calcio propositivo eh di quelli che vanno ora non solo di moda ma che sono anche efficaci in Europa con una squadra molto fluida che difende in un modo e attacca in un altro con dei meccanismi interessanti con continui scambi di posizione fra i fra i giocatori e e sta facendo quindi poi magari entreremo nello specifico sta facendo un grandissimo lavoro lui è più o meno alla terza stagione dico più o meno perché poi l'anno scorso è stata è stata interrotta la la stagione di Ligue 1 purtroppo e il primo anno eh aveva recuperato una squadra che si era salvata ma la pena ha iniziato questo percorso dopo tanti anni fatti in precedenza al San Etienne e sta ottenendo grandi risultati sento anche che ovviamente è cercato sulle da panchine di squadre francesi lo accostavano al Nizza secondo me con tutto il rispetto per il Nizza a questo punto potrebbe ambire soprattutto se dovesse vincere il campionato potrebbe ambire anche a squadre un po' più in alto diciamo con progetti più avanzati rispetto a quello del Nizza perché al Nizza dovrebbe di nuovo non dico ricostruire da zero ma quasi infatti eh da Nizza è un progetto con ambizione perché c'è Ineos dietro quindi sono soldi ma il progetto con Patriviera è finito e vedremo perché Lille al contrario avremo il tempo di ritornare dopo ma Lille il progetto è un po' il contrario diciamo che a livello finanziare è difficile ci sono difficoltà su questo punto è un po' il contrario di Nizza il sportivo va bene a Lille ma a livello dei soldi un po' meno. Diciamo che anche su questo Galtier è molto preparato nel dover gestire squadre con pochi soldi perché comunque lui le ossa se le è fatte al Saint-Etienne che pur essendo il club ancora non so per quanto più titolato di Francia a livello di di Scudetti eh ovviamente negli anni ha perso il suo blasone e soprattutto ha perso soldi tant'è vero che adesso si parla di una vendita a investitori esteri anche del Saint-Etienne però lui negli anni è riuscito sempre a fare davvero tanto con poco e soprattutto a creare dei giocatori di livello nel senso al Saint-Etienne ci ricordiamo tutti Pierrick Ombamian che poi in Europa magari non ha fatto quei degli sfracciati però c'è stato un momento che andava comunque abbastanza bene anche perché lui li tiene sotto torchio e quindi quando stanno con lui lavorano. Ma Valentina tu conosci bene Gartier non aveva questa immagine a Saint-Etienne soprattutto alla fine perché ha fatto otto stagioni quindi alla fine era un po' più difensivo diciamo un po' più francese classico per fare una caricatura ma com'è in verità e cos'è cambiato nella sua visione del calcio? Secondo me è una persona che da sempre si è messo in discussione nel senso che lui ha avuto una carriera abbastanza particolare nel senso che è arrivato sulla panchina del Saint-Etienne come primo incarico a metà stagione che ha dovuto sostituire quello che era tra virgolette il suo maestro quindi non sapeva neanche se accettare quell'incarico in quel momento e questo è già stato un suo mettersi in dubbio se tra virgolette tradire infatti ha chiesto il permesso di poter accettare l'offerta del Saint-Etienne anche perché spesso queste cose succedono forse nel campionato francese è una cosa che accade più spesso che il secondo subentra così e poi rimane nel tempo. Si è raro funziona raramente in verità come soluzione però ci sono delle... proprio perché magari ci sono pochi soldi comunque c'è stabilità invece Galtier è cresciuto insieme alla squadra nel senso che appunto come dicevamo prima il Saint-Etienne è un blasone storico del calcio francese e invece negli ultimi anni tra retrocessioni, difficoltà finanziarie perché comunque era legato al grande gruppo di supermercati casi no ha avuto grosse difficoltà quindi avendo un buon centro di formazione la politica del Saint-Etienne è sempre formare i giocatori portarli in prima squadra e venderli al primo offerente insomma per far sopravvivere il club e questo è stato il banco di prova nel senso appunto parlavamo di Obama Young che è stato fondamentale ha fatto... anche Brandao è stato fondamentale al Saint-Etienne insomma ha fatto rivivere ha preso dei giocatori che erano comunque buoni per il campionato francese che potevano dare qualcosa in più anche a livello di esperienza tra tutti ci fu l'esperienza anche di Jeremy Clement che è stato anche capitano se non erro che si ruppe i legamenti ma proprio in maniera seria eppure era là anche nella finale che poi ha portato alla vittoria della Coppa di Lega il primo trofeo dopo anni e se vi capita di ritrovare le immagini di quel successo è stato il successo di Galtier perché appunto è riuscito a ricostruire a federare degli uomini intorno al suo progetto che comunque dava già dei primi segnali di gioco anche se non era ancora imperfetto da questo punto di vista Fabrizio, qual è l'immagine di Galtier in Italia come allenatore? No, beh sicuramente nelle ultime settimane è uscito appunto come dicevamo prima il suo nome è sempre più insistente quindi sia per appunto la Roma, il Napoli insomma per queste squadre per cui si sta prospettando un eventuale cambio di allenatore quindi sicuramente è un allenatore che adesso è molto quotato e che ha avuto insomma il suo percorso importante e che appunto adesso Lille sta insomma portando alla squadra un risultato importante ma ripeto anche le sue importanti stagioni al Saint-Etienne ha fatto una diciamo tra virgolette un lungo percorso ecco e sicuramente si sta meritando queste attenzioni quindi potrebbe essere un profilo interessante anche per il suo eventuale approdo nel campionato italiano E Michele abbiamo un ricordo così della vittoria di Lille a San Siro 3 a 0 in Europa League questa stagione era un po' lo stile Galtier questa vittoria era davvero una partita molto bene preparata Sì sì assolutamente fra l'altro non era il Milan di ora cioè il Milan di ora mi sembra un po' in caduta libra quello invece era un Milan fortissimo che aveva chiuso benissimo il campionato scorso durante l'appendice estiva e che era ripartito altrettanto bene e non ci fu partita praticamente molti sottolinearono lo scivolone del Milan e pochi invece hanno sottolineato la grande partita che fece il Lille ma io penso che ci siano anche altre due partite magari un po' più recenti indicative del lavoro di questo allenatore e sono quella a Parigi col Paris Saint Germain e l'ultima con la vittoria in rimonta su Lione perché queste due? Al di là degli avversari insomma del livello degli avversari ma la prima ha dimostrato che Galtier cura bene la fase difensiva perché c'è questo blocco compatto due linee di quattro una squadra che è in grado di pressare in avanti ma anche di difendere a metà campo cerca di non scambiare a schiacciare troppo la linea difensiva la seconda invece è stata come si dice in inglese una masterclass offensiva perché comunque una squadra molto fluida con André che era uno dei due mediani che veniva in costruzione a fare il terzo centrale a destra con un grande cambi grandi cambi di posizione fra i giocatori avanzati a un certo punto si è visto anche Renato Sanchez in alcune circostanze nel secondo tempo venire lui a fare il play davanti alla difesa fra l'altro un giocatore che era dato completamente per perso e che è stato risuscitato da Galtier a Lille davanti il Mazz forte non solo nelle conclusioni ma anche come si dice nel gioco associativo a venire incontro a creare questi quadrilateri esterni con i compagni quindi le punte che vengono anche a giocare dentro vengono anche a giocare a volte nei mezzi spazi quindi è stata una mentre quella di Parigi è stata una grande prestazione difensiva di organizzazione difensiva quella con il Lione è stata una grande prestazione a livello offensivo quindi un allenatore che lavora bene entrambe le fasi questo mi preme sottolinearlo anche riallacciandosi alla partita di Milano perché secondo me si sottovaluta troppo la Ligan sia a livello di giocatori che a livello di allenatori quando si parla dei cinque grandi campionati europei si mette sempre la Ligan in fondo secondo me ancora una volta non è una questione è una questione di giocatori e allenatori ci sono allenatori bravi in Ligan altri meno bravi come ci sono allenatori più bravi e altri meno bravi nelle altre leghe quindi è una questione di allenatori bravi e allenatori meno bravi allenatori o diciamo più adatti per un progetto e meno adatti per un progetto giocatori più adatti sai cosa c'è anche una questione di apertura mentale nel senso che la Francia da questo punto di vista in generale ha sempre sofferto di tanta chiusura e quindi difficilmente gli allenatori francesi hanno fatto molto sono stati molto corporate nel senso difendevano i colleghi anche quando non davano bene insomma c'è sempre stata questa cosa però ci sono stati allenatori che hanno sorpassato questo modo di vedere le cose anche forse adesso Rudy Garzia ha fatto qualche passo indietro da questo punto di vista però anche lui quando è venuto fuori si distingueva rispetto alla media degli allenatori poi secondo me Garzia c'è anche un altro punto di vista che lui tende sempre a creare la polemica per proteggere i propri giocatori ed è un altro magari ci ritorneremo in un'altra situazione però era per fare il come dire il quadro della situazione per quanto riguarda Garzia lui è uno che è partito con la difesa come abbiamo sottolineato tu ma è sempre uno che ha portato il gioco verso l'avanti e questa fase secondo me negli anni lui è riuscito a migliorarla e quello che vediamo oggi nell'Ile è molto interessante ed è una cosa che quanti altri allenatori a livello europeo tentano di fare la stessa cosa nel senso siamo sempre o troppo da una parte o troppo dall'altra poi magari tu che sei il tecnico ce lo puoi spiegare meglio l'analista no ma guarda io mi rifaccio a quello che disse qualche tempo fa in una conferenza stampa Gattuso al Napoli il calcio cambia la società in cui viviamo è velocissima e quindi non si può pensare che il calcio cambia a una velocità minore quando la società che vediamo sotto i nostri occhi cambia a una velocità così grande anche il calcio cambia aver giocato ad alti livelli o anche aver allenato a limite ad alti livelli 30 15 20 anni fa non basta più non basta più e lui lo diceva su se stesso dice io ho vinto il mondiale nel 2006 ma il calcio di ora rispetto a quello del 2006 è già un'altra cosa quindi lo studio l'evoluzione che ci sono in tutte le professioni perché un medico si deve aggiornare un giornalista si deve aggiornare un insegnante si deve aggiornare nel mondo del calcio alcuni credono che invece per grazia ricevuta non ci sia questa necessità e poi ci accorgiamo che non è così non è così cioè una natura come Guardiola studia dalla mattina alla sera quindi l'aggiornamento fa parte di tutte le professioni a maggior ragione nel calcio quando si parla di allenare e di allenamento non si può pensare che ci si debba aggiornare in tutto tranne che nel fare l'allenatore è un po' un assurdo secondo me giustamente Fabrizio secondo te come è cambiato il ruolo dell'allenatore visto dai tuoi occhi in questi anni diciamo comunque anche se sei giovane hai un'esperienza in varie realtà da una decina d'anni ma sicuramente parto da un presupposto cioè che comunque è proprio il calcio il modo di interpretare anche il calcio che sta cambiando anche il modo di giocare per esempio adesso proprio ne discutevo con i miei vari colleghi ultimamente c'è per esempio questa sempre questa ricerca del gioco del basso che fino a tanti anni fa appunto mi è poi tra l'altro ricapitato di vedere la finale no scusate la finale la semifinale Italia-Germania proprio di recente comunque fino a diverso tempo fa c'era c'era tutt'altro modo di giocare quindi questo per dire che comunque sia gli allenatori anche piano piano ovviamente si sono insomma hanno iniziato a studiare proprio un altro tipo si sono evoluti sotto questo aspetto un altro tipo di calcio ecco però questo insomma non deve portare poi a oggi si vede molto spesso come ho già detto il fatto di di giocare spesso dal basso quindi di di forzare sempre questa giocata e molto spesso si rischia anche di di subire di subire gol come può essere accaduto nel Napoli di Gattuso insomma però ecco appunto è un come diceva giustamente anche Michele ci deve essere un continuo un continuo aggiornamento è un continuo studio e anche l'allenatore insomma fa parte di come tutti i comuni insomma come tutti i lavori comuni di un di un di un di un continuo conoscere nuove cose poi penso che sia fondamentale il il confronto il confronto perché non si finisce mai di imparare e di conoscere anche le idee degli altri allenatori ecco secondo voi esiste ancora questa categoria di allenatore o mister manager per grande squadra e per piccole squadre perché Galtier ha fatto il suo percorso Saint-Etienne Lille ottimi risultati ma non ha mai avuto a gestire giocatori come Neymar per esempio Mbappe questi tipi di giocatori potrebbe essere forse una limita per lui nel suo percorso sicuramente sono giocatori con una forte personalità quindi magari delle difficoltà iniziali le può sicuramente riscontrare ma come lo stiamo vedendo adesso in Italia secondo me per Andrea Pirlo insomma perché comunque rapportarsi con giocatori anche nonostante appunto lui sia stato un grande calciatore ecco però poi penso che la differenza tra fare il calciatore e fare l'allenatore è importante quindi gestire dei profili come ad esempio può essere quello di Ronaldo non credo che sia così semplice allo stesso modo magari in altre squadre come potrebbe essere un Neymar o insomma altri tipi di giocatori di questa caratura però ecco poi sì dipende insomma da quale squadre potrebbe insomma andare ad allenare penso che comunque in realtà ma non perché sono minori ma in realtà magari come Napoli Roma come era stato insomma anche per Garzia o come adesso per Fonseca penso anche che Alte potrebbe stare benissimo in una realtà del genere e comunque dire dire la sua ecco io approfitterei per salutare intanto Fabrizio prima di passare la parola a Michele lo ringrazio per questa grazie a voi scusatemi è stato veramente un piacere spero presto insomma di poter partecipare perché mi fa molto piacere un saluto un saluto a tutti grazie 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 a voi alla prossima Fabrizio ha detto il nome di Garzia che è passato da Lille alla Roma potrebbe essere un esempio per Gartier in Italia o in Spagna in Inghilterra vediamo ma un po' questo tipo di percorso il titolo o almeno vedremo secondo o terzo posto con Lille poi andare così in un club di questa dimensione secondo te Michele? ma secondo me sì dicevi giustamente dell'identità dell'allenatore chiaro ci sono allenatori che magari sono più adatti per determinate piazze perché magari si rapportano meglio con l'ambiente la stampa i giocatori e sono magari meno adatti ad altri noi pensiamo sempre a allenatori che magari hanno fatto male in grandi piazze però c'è anche il caso alla rovescia Trapattoni quando andò al Cagliari fece male quindi era abituato a grandi giocatori in grandi ambienti andò in un ambiente un po' più piccolo con giocatori di minor qualità minor carisma e fece male quindi è una questione non di livelli ma una questione di adattabilità al contesto Galtier non lo sappiamo perché come hai detto tu non ha mai avuto a che fare con giocatori cioè anche giocatori di personalità però non di quel livello mediatico come appunto può essere un Bappé un Neymar o un Cristiano Ronaldo però credo che dopo il lavoro che ha fatto al San Etienne e quello che sta facendo a Lille meriti almeno una chance a questo livello per di più se dovesse andare al Napoli o alla Roma si troverebbe sicuramente in un ambiente più difficile rispetto a quello di Lille sicuramente in un ambiente più grande con maggiori pressioni sicuramente in un contesto come quello del calcio italiano dove quando arriva un allenatore da fuori sembra che non abbia mai allenato in vita sua quindi non so se lì in Italia si pensa così però con giocatori appunto con un livello di giocatore di personalità che non so se sia più alto o più elevato di quello di quello dell'Ile comunque non sarebbe uno step grossissimo come passare dall'Ile al Paris Saint Germain o dall'Ile alla Juventus e quindi sarebbe un passo in avanti secondo me ma sempre uno step intermedio che come allenatore secondo me merita di avere quindi io sarei contento di vederlo quello che è interessante è che comunque io ho avuto la fortuna di poterlo intervistare varie volte perché ho seguito il suo percorso veramente da vicino nel un anno dopo l'altro perché comunque era un personaggio che attirava l'attenzione per quello che proponeva per quello che riusciva a fare con i pochi mezzi e in retroscena che che mi aveva raccontato lui e che lui ha giocato in Italia in Serie B al Monza quindi comunque parla italiano abbastanza bene anche se lui dice di no ma in quell'esperienza a Monza soprattutto lui col fatto che era all'epoca del Milan dell'Inter con tanti francesi lui approfittava ogni momento libero che aveva andava ad allenarsi con loro quindi comunque ha vissuto un'epoca del calcio italiano anche se da un punto di vista magari particolare dal vivo e quindi sa che cosa significa anche magari il derby San Siro comunque c'è un'idea ben chiara di quello che è il calcio italiano e di dove può portare e soprattutto una persona che non è sempre stata curiosa perché è stato uno dei primi calciatori ad andare in Cina quando in Cina non ci andava nessuno magari dici ma è andato in Cina perché come giocatore non valeva lui l'ha fatto perché era in fine carriera e voleva fare un'esperienza che gli desse una prospettiva nuova e secondo me è stato interessante gli ha aperto la mente perché lui dice io a me il calcio mi ha aperto anche la testa nel corso del tempo e questo gli permette oggi di approcciarsi in maniera meno rigida a tante cose Parantesi mi fa pensare Antonio Conte ha detto durante questa stagione che un giocatore come un allenatore che arriva in Italia ha bisogno di tempo per apprendere parlava di Achimi che aveva un po' difficoltà all'inizio con la cultura più difensiva secondo te Michele è sempre così il calcio italiano è diverso rispetto agli altri c'è bisogno di tempo un po' di tempo c'è sempre quando vai all'estero quindi che tu vada nel campionato italiano vada in quello tedesco in quello inglese ti devi un po' adattare d'altra parte ci vuole un po' di tempo d'altra parte è stato così anche Guardiola che ha adattato anche il gioco i principi sono rimasti quelli ma il Bayern Monaco non è il City e queste squadre non sono il Barcellona anche perché i giocatori erano diversi ma anche perché erano diversi i contesti il calcio italiano è difficile però non siamo più negli anni 80 90 dove il calcio italiano era praticamente il campionato e quindi tu se volevi la laurea all'università dovevi venire nel campionato italiano adesso il campionato italiano è difficile è uno dei grandi campionati però è difficile ed è un grande campionato come quello tedesco come quello inglese come quello spagnolo come anche quello francese quindi è chiaro che gli servirebbe eventualmente a Galtier un po' di tempo per abituarsi però meno di quanto gliene sarebbe servito se fossimo negli anni 80 90 o primi anni 2000 anche perché con il mondo che è sempre più piccolo anche a livello di informazioni non ci sono più tanto le scuole o meglio ora ci sono le scuole tattiche io faccio il calcio di posizione io faccio un calcio più manovrato non c'è più la scuola nazionale il Brasile gioca in un modo l'Italia gioca in un altro l'Inghilterra gioca in un altro perché i confini si sono abbattuti quindi c'è più scambio di informazioni e quindi ci sono più approcci filosofici diversi che scuole nazionali e così l'adattabilità al campionato sicuramente Galtier la dovrebbe fare all'ambiente ai media ma come la deve fare chiunque quando va a lavorare all'estero e poi mi ricordo era la scorsa stagione credo che Galtier era un po' in difficoltà dopo la Champions aveva cambiato di modulo con tre difensori per ritrovare un po' di soffio e aveva funzionato bene quindi non è neanche chiuso in un modulo una famiglia diciamo di gioco no ma poi abbiamo visto anche diceva prima Valentino giustamente Rudy Garzia Garzia ha fatto bene è venuto qui ha fatto anche qui ci si aspettava ma questo viene da un campionato da un altro campionato da una pressione minore pure ha fatto bene insomma ha fatto bene quindi insomma è la questione se un allenatore secondo me è adatto come dicevo prima o meno a un determinato contesto se li fanno la squadra se la società lo sostiene non lo lascia solo nei momenti di difficoltà quindi se trova una piazza del genere in Italia io sarei molto contento di vedere Galtier qui da noi e poi Valentina sa fare crescere i giocatori ha detto per esempio Bameyang a Saint-Etienne ma anche che sia Pepe che sia Oshimel che sono vendite molto importante sì li sa mettere a frutto sa riconoscerli ma soprattutto come dicevo prima sa farli stare al loro posto perché quando mi chiedevano di Oshiman al Napoli tutti quanti ma vale i soldi vale sicuramente il giocatore vale e l'allenatore è riuscito a farlo crescere io non so quello che succederà a Napoli perché molto dipenderà da come riuscirà a integrarsi perché questa cosa dell'integrazione è sempre fondamentale non è che il giocatore diventa un incapace all'improvviso ma ci sono così tanti fattori soprattutto quando hai vent'anni che poi l'abbiamo visto anche con Pepe anche Pepe era stato venduto tra virgolette a Fior di Milano adesso se ne sente parlare forse poco ecco rispetto a quelle che erano le promesse questo non significa che ci sia un problema prima il problema viene poi dopo nella gestione quello che è chiaro perché riuscire quando sei in una squadra comunque come può essere il Sant'Etienne o anche il Lilla inquadrare un giocatore forse è un pochino più facile per tutta una serie di situazioni poi quando vai fuori esplodi vai nella grande città ci vuole più tempo però lui ha il carattere anche perché il primo essere è stato come dire focoso è stato lui le cronache diciamo è stato protagonista anche di come dire di un gesto che lui ha detto sempre che me l'ha confermato anche a me di non aver mai fatto di un attacco a un altro giocatore insomma nel tunnel quando era a Marsiglia quindi sa bene che cosa significa andare incontro a determinare tensioni come la stampa ti può attaccare e secondo me questo è stato per lui un passaggio fondamentale per poi riuscire a porsi in maniera più diretta perché lui non si mette mai al di sopra nel senso negativo del termine dei giocatori ma entra in contatto diretto e questo secondo me gli permette di avere una migliore gestione dell'effettivo e per finire Valentina la sua comunicazione possiamo dire due parole è anche diventato diciamo molto molto bravo sa parlare alla stampa sa dare qualcosa perché conosce bene questo gioco conosce bene il gioco e non si nasconde nel senso che quando deve dire oggi abbiamo giocato male non usa mai diciamo mezzi termini lo dice chiaramente non è che si va a nascondere eh no perché l'arbitro lì è questo e quell'altro sicuramente la dimensione come diciamo anche prima aiuta però quando fa l'errore l'ammette è sempre molto critico in primis nei propri confronti quindi quando è portato ha sempre un modo di porsi può piacere o non piacere perché poi non penso che sia un personaggio che piace a tutti però è un allenatore che ha trovato il suo stile di comunicazione sia fuori sia dentro del campo e lo sta portando avanti con ottimi risultati e grazie mille per questi approfondamenti su Christophe Galtier allenatore di Lille e vedremo se già vedremo se sarà campione di Francia perché il campionato non è finito Lille è davanti ma con Parigi e Monaco molto vicini Lyon un po' meno adesso dopo la vittoria di Lille contro Lyon 3-2 solo per finire così Michele Valentina secondo voi Lille sarà campione di Francia questa è la domanda delle domande di certo è un bellissimo campionato quest'anno combattuto credo che sia ancora favorito per ovvie cose il Paris Saint Germain poi bisognerà vedere anche se anche se la sconfitta di ieri sera bisognerà vedere se proseguirà o meno il percorso in Champions io i pronostici di solito non li azzecco mai però attenzione al Monaco attenzione al Monaco perché Kovacs ha fatto un bel lavoro e quindi potrebbero alla fine spuntarla loro la rosa c'è anche lì c'è un bravo allenatore che si è rilanciato bene però è difficile perché sono veramente tutte squadre in Lione un po' staccato però non è ancora totalmente fuori è un bel finale di stagione da seguire io non mi pronuncio evito di pronunciarmi non voglio fare pronostici perché poi insomma è una cosa che odio e quindi mi tengo le mie speranze come dire anche perché sarebbe sarebbe bello vedere un'altra squadra abbiamo visto quando il Monaco con Jardim comunque sono imposti ormai qualche anno fa il cambiamento che ha portato anche la la ventata d'aria fresca perché poi non è solamente il momento della vittoria del campionato ma anche tutto quello che ne è venuto dopo con la Champions insomma auguriamo a Lille di avere dei come dire dei motivi per essere orgogliosi da qui alla fine dell'anno ebbene vedremo e vedremo anche per il suo futuro beh grazie mille Michele solo possiamo continuare 5 minuti con te per il nostro espresso e approfittare della tua presenza per parlare un po' delle partite di Champions Rio assolutamente espresso sia mares che passa attraverso la barriera, e si apre, e sbaglia, ed è 2-1 per il Manchester City, in vantaggio e partita ribaltata. E iniziamo, abbiamo parlato mercoledì Manchester City, ha vinto 2-1 allo palco dei Principi di Parigi, ancora una volta Guardiola ha trovato il modo per ritornare alla situazione dopo un primo tempo difficile, controllato per il PSG, ma ancora una volta ha giocato senza nuove. Una forza, una debolezza di non avere un centravanti così? Nel dopo partita proprio la TV italiana le hanno chiesto se sentiva la mancanza di un centravanti e lui, un italiano sempre perfetto, ha detto a volte sì, a volte sì, però giocano in questa maniera, hanno dei principi, fra l'altro Guardiola spesso negli ultimi anni è stato accusato, come dicono in Inghilterra, di overthinking, cioè di complicare troppo il piano, di pensare troppo letteralmente, quindi di complicare troppo il piano gara, e dopo un primo tempo Scialbo, dove il Paris Saint-Germain è stata la squadra migliore in campo, lui invece è stato in grado di aggiustare la squadra, tornando a quel calcio fluido che poi caratterizza sempre le sue squadre, quindi ha rimesso la squadra in carreggiata con qualche mossa. Questo fatto di giocare senza attaccanti, l'importante è attaccare la linea, perché tu puoi fare come la Juve, quando ci sono state quelle poche volte Ronald e Dybala insieme, rischi però di non avere nessuno che vada ad attaccare la linea, oppure puoi fare come il Manchester City, che mette magari De Bruyne, Falzonueve, De Bruyne si sposta, però ci sono gli altri giocatori, Marez, o gli altri giocatori di turno, poi Silva, che vanno ad attaccare la linea, perché come dice Militario e anche Maurizio Viscidi, per fare gol devi andare oltre la linea difensiva, e quindi bisogna sempre che se manca un attaccante ci sia qualcuno che compensi questi movimenti andando ad attaccare alle spalle la linea avversaria. Il Manchester City lo fa, lo sa fare bene, e quindi magari lì l'assenza di una punta si vede meno. Comunque questo è stato il grande dibattito in Europa e anche in Inghilterra di tutto l'anno, meglio il City con una punta o senza? Dipende dalle partite, purtroppo noi possiamo valutare solo dopo la partita, quindi dagli esiti di come è andata la partita, però credo che sia una squadra in grado di esprimersi bene, sia con la punta che senza. E sì, è così anche di cambiare, perché c'è Aguero, c'è Gabriel Jesus in panchina, quindi forse la settimana prossima sarà con una punta per approfittare di un Parigi che dovrà attaccare, perché dovrà vincere. Sì, è probabile, è probabile che cambi qualcosa in funzione appunto del Paris Saint-Germain, che ha fatto una buona partita, buonissima, con il Bayern Monaco in ripartenza, ha fatto un bel primo tempo in ripartenza, però stavolta mi ha detto tu devi attaccare, quindi vedremo come risponde la Guardiola e vedremo cosa si inventerà anche pochettino. Tra le altre cose, ieri pomeriggio, prima della partita, mi hanno chiamato da Teleradio Stereo, Radio Romano, appunto per parlare del Paris Saint-Germain, e mi avevano chiesto, secondo te ce la farà? Ma secondo me tutto è possibile, il problema è che se Neymar e Mbappé decidono di non giocare, il resto non funziona, nel senso che poi, ieri di sé abbiamo visto tantissimo anche Florenzi che si è dato un bel po' da fare, però se quei due lì davanti non sono nella giornata giusta, il resto per quanto si possano sforzare non va, perché manca equilibrio e quindi la settimana prossima bisognerà vedere, perché nel momento secondo me in cui il Paris Saint-Germain è andato in svantaggio, la voglia sempre di magari trovare la giocata, fare la cosa, poi li porta a strafare da un certo punto di vista e a perdere il senso del gruppo e quindi si esce dal contesto. Che ne pensi Michele? No, è chiaro che quando hai questi giocatori sei per forza fortemente dipendente dalle loro qualità, loro non partecipano alla fase difensiva, l'abbiamo visto anche ieri, praticamente rimanevano avanti, quindi è chiaro che tu difendi con due uomini in meno, con otto giocatori di movimento e non con dieci, però allora è necessario che tutte le volte tu riconquisti palla, tu riesca a superare la prima pressione avversaria e a connetterti con quei due, perché sai che se riesci a connetterti con quei due e loro come hai detto tu sono in giornata, loro da soli mettono in difficoltà 4-5 difensori e ti allungano la squadra avversaria, quindi tu quello che perdi in fase difensiva facendo un bilancio lo riguadagni in fase offensiva se loro sono in giornata e se la squadra riesce a collegarsi con loro quando ritorna in possesso di palla. È un po' quello che succede con Ronaldo, insomma con Ronaldo la Juve, è un giocatore in fase difensiva, lo perdi completamente e bisogna che alla fine il rapporto fra costi e benefici sia favorevole. Per fare questo lo devi riagganciare quando riconquisti la palla. Se il Manchester City organizza una pressione tale da, come è stato nel secondo tempo, da impedire la costruzione al Paris Saint Germain, alla fine hai due armi che però fai fatica ad armare e quindi va in difficoltà. Che pensare di Verratti in questo ruolo? L'abbiamo visto in una partita molto difficile perché contro il Bayern non c'era a causa del Covid con questa pressione di Manchester e come dicevi tu. Verratti è innanzitutto un grande palleggiatore, un grande pulitore di palloni. Lui comunque la pressione la regge bene e anche il pressing collettivo perché comunque è difficile che tu riesca a togliergli la palla. È stata un'invenzione di Pochettino, di metterlo tre quarti. Mi ha sorpreso perché io non mi aspettavo che lui potesse far bene in quella posizione. Secondo me è un giocatore che dà ancora il meglio di sé quando gioca accanto ad un altro palleggiatore, come è stato il nazionale con Giorginio, come è stato al Paris Saint Germain quando aveva Tiago Motta. Quindi secondo me lui il meglio lo dà da secondo mediano a mezzana di possesso accanto ad un altro di palleggio, ad un altro giocatore di palleggio. Però devo ammettere che mi ha sorpreso in quella posizione, è cresciuto molto e quindi merito anche di Pochettino perché l'ha messo, ripeto, in un ruolo dal numero 10 dove non pensavo potesse far bene, invece sta facendo bene. Continua a preferirlo più indietro accanto ad un altro palleggiatore, però oggettivamente i risultati parlano a favore della scelta del tecnico argentino. E per finire l'altra semifinale, una a uno tra il Real e il Chelsea a Madrid e Zidane che si è adattato a Tuchel con la difesa A3 che aveva già utilizzato questa stagione e che ha lasciato soprattutto il controllo alla squadra inglese. Era un errore da parte di Zidane così di essere un po' dominato. Zidane ha ricorso alla difesa A3 anche in altre occasioni, penso alla partita con l'Atalanta, non ci parlo in Champions. Stavolta credo che lui abbia fatto overthinking, di cui si accusa spesso Guardiola perché ha lasciato troppo all'iniziativa. È vero che aveva gli uomini contati, però magari poteva allargare Nasho perché comunque mancava Mendy. Un conto è avere Mendy come quinto, un conto è avere Marcelo che non ha fatto una grande prestazione e quindi di fatto ha lasciato il pallino in mano al Chelsea. Se Werner avesse indovinato un paio di occasioni, a quest'ora la situazione sarebbe più difficile per il Real Madrid. Quindi mi aspetto che Zidane cambi qualcosa anche nell'impostazione della squadra nella partita di ritorno. E vedremo durante questi semifinali di ritorno se sarà una finale tutta inglese o no, perché per il momento c'è un po' la situazione così di vedere City contro Chelsea. Anche se il mio sogno è vedere ovviamente il Paris Saint Germain contro Chelsea in finale, quello sarebbe l'apoteosi. Tante storie. Io diciamo che se dovesse vincere Tuchel festeggerò da solo, ma festeggerò. Vengo a festeggiare con te, Michele, non ti preoccupare. Non mi rispero. Hai il mio supporto per quanto riguarda Tuchel. I laptop trainer, come se non sbaglio Scholl, sdegnosamente li definisce quelli che non hanno un passato a calciatore, ma che poi l'allenatore lo sanno fare, io li guardo sempre con occhio di grande simpatia e ammirazione. E vedremo un altro esempio alla prossima stagione al Bayern di Monaco, che ha certo una jesman anche. E questo sarebbe probabilmente un tema da affrontare su un prossimo podcast. Sì, sì, perché no, perché no, volentieri. Esatto, è come abbiamo parlato anche del percorso per diventare allenatore in Italia, che è molto fastidioso quando non è un giocatore. Un giocatore professionista. Sì, sì, che ha il suo percorso e che può andare più avanti, più velocemente e iniziare subito con il diploma UEFA. Esatto. Siamo arrivati alla fine, Silvica. Esatto, per questa seconda puntata in italiano. Ti faccio i complimenti perché migliori di giorno in giorno e non possiamo che essere fieri di averti in Italia con noi. Grazie. E quindi ringrazio Michele per la sua expertise in questo podcast che è sempre molto molto piacevole e molto molto approfondita. No, grazie, grazie a voi dell'invito, vengo sempre più che volentieri, grazie mille. E noi ci ritroviamo la prossima settimana. Non sappiamo in quale lingua, ma saremo sempre qua. Esatto, vedremo. Lanciamo il dado. E ovviamente ci potete ritrovare sui nostri social, che siano Facebook, Twitter, Instagram. e potete trovare il nostro podcast su tutte le principali piattaforme come Audio Means, Spotify, Apple Podcast, eccetera, eccetera, eccetera. Ricordiamo inoltre che il podcast ha anche un abbonamento che potete fare per ricevere in anticipo i numeri su Patreon. e potete diventare i nostri tifosi con un piccolo aiuto e far crescere questo progetto che, insomma, ci sta dando delle belle soddisfazioni. E grazie mille Valentina, grazie mille Michele. Grazie a te Cedric. A bientù. A bientù. Ciao. Au revoir. A bientù.